L'arma, una vocazione, una passione, per qualcuno un dovere, ma il comune denominatore resta l'orgoglio di appartenenza nell'indossare quella divisa. Prestano un giuramento per servire il proprio paese con lo spirito goliardico che accompagna ogni giorno i tanti agenti del Corpo della Polizia di Stato. Noi dobbiamo essere sempre più severi, rigorosi, inflessibili con i delinquenti e sempre più vicini però alla gente che ha bisogno di risposte anche alla loro paura, alle insicurezze, alle preoccupazioni e quindi è questo il significato della nostra festa ed è anche un modo per rinsaldare il nostro spirito di corpo quindi il nostro modo di fare squadra, il lavoro del poliziotto così come quello delle altre forze di polizia è un lavoro difficile, quindi un momento di tonicità, di unione, di identità profonda serve. Ed è proprio in piazza dell'Odigitria, davanti alla splendida cattedrale di San Sabino che nella mattinata di oggi si sono svolti i festeggiamenti del 167esimo anniversario della Polizia di Stato un appuntamento a cui non poteva mancare davvero nessuno autorità istituzionali, civili, militari e religiose personale della questura e degli uffici delle specialità dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato nonché familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere Hashtag esserci sempre è questo lo slogan che contraddistingue da sempre l'operato del corpo di polizia a sigillare ogni giorno quel legame di fiducia che tutela indissolubilmente la sicurezza del cittadino In quest'ora, esserci sempre, un hashtag, una promessa verso i cittadini? Sì, assolutamente sì noi dobbiamo essere sempre convinti che siamo al servizio della gente non è, diciamo, retorica è questo il significato del nostro essere non limitandosi soltanto alla lotta al crimine ma intervenendo quotidianamente ad ogni segnalazione del cittadino soprattutto delle fasce deboli oggi ovviamente le conosciamo molto bene sono i minori ma sono sempre più gli anziani e il nostro paese fortunatamente cresce diciamo nella età media delle persone si vive di più, per fortuna ma c'è anche appunto tanta gente anziana che ha bisogno anche di noi E ai poliziotti che si sono distinti per professionalità, coraggio e senso del dovere con una buona componente di passione sono stati conferiti riconoscimenti e onoreficenza